Sì, non è più lontano, lì in punto. No, ma prende l'argo. Sì, che vai in mese, eh. E poi anche con la canna grossa, bella lì. Sì, si stacca di 10 kg. E' due in giro, vabbè. 50 kg, lo fa qua, al minimo. Eh? 50 kg, vabbè. Lo so, lì mi si deve stendere, eh. Manu, che c'è il motore che c'è da sopra? Sì, aspetta. Sta salendo? Sì. Mi voglio andare sopra proprio. Ma viene su anche abbastanza... Sì, sì. Sì, sì. Limitato, vera, in due metri d'acqua. Se vengo dietro, correvo. No, no, no. Posso solo. No, no, no. No, no, no. È un po' di nessù, eh? attesa si sta riprendendo eh? si si minimo l'ha registrato un cazzo vado a cazzo e mi ammatti di volta ma che voglio che vado? sei risultato qui eh? ora viene su un load norm giuro ma se hai fila li fa le bolle qua porca puttana cazzo è grosso ma è grosso e te cazzo è il sottomarina ah sì che me l'ho preso per schiena e beh ma 50 kg eh ecco peccati razza bella pinna ma per la pelle se vieni su tocca la barca beh sei una figata chiusa dov'è il guanto? belle belle grosse però figa se c'è in bocca eh c'è un po' basta le canne un po' e poi quando tiri su si smardellano era a 2 metri qua quasi però oh con un ancorino solo cioè con un amo solo dell'ancorino è taggata e le nemmo a cipare l'ancore è taggata aperta adesso c'è da slam c'è per il graffi no dai no dai no no vuoi la mano? no dai la mano dai la mano dai la mano dì l'aura male immagini ah tu l'acqua dimmi se mi ha una mano aspetta l'acqua dimmi se mi ha una meno aspetta vedo la mano la buttiamo dentro c'era un sugo di piccia che ti faccia fuori ti metti l'acqua Così, giro di giorni di qua Vai di là da Luca